La campagna di vaccinazione antinfluenzale nel Lazio prosegue, anzi è entrata a pieno regime, come conferma l'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato. Ad oggi, dichiara l'assessore, sono già state consegnate oltre 404 mila dosi di vaccino antinfluenzale, con un notevole incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. La campagna vaccinale antinfluenzale nel Lazio, prosegue l'assessore alla sanità, sta entrando nel vivo. Voglio rivolgere un invito alla vaccinazione, soprattutto per la popolazione degli over 65. È importante, conclude, non aspettare l'ultimo momento ai primi freddi, ma fare il vaccino, poiché l'influenza non va sottovalutata e ogni anno i sintomi influenzali mettono a rischio lo stato di salute dei cittadini, soprattutto gli anziani e le persone più deboli. Un invito particolare, conclude l'assessore D'Amato, alla vaccinazione. Lo rivolgo, infine, a tutto il personale sanitario.